Infante Calzature e Pelletterie Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 7TV, anche quest'oggi uno sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali, purtroppo 30 cronaca sui giornali con la tragedia che si è verificata ieri mattina sulla Mingardina dove una donna rimasta coinvolta in un incidente ha perso il bimbo che portava in grembo di 5 mesi. Vedremo questa notizia nel corso della nostra rassegna stampa. Ora è doverosa la presentazione del nostro ospite, l'avvocato Gerardo Boccia del comitato festeggiamenti in onore di San Pantaleone Medico e Martire, patrono della città di Vallo e di tutta la diocesi. Ben ritrovato, ben ritrovato, a distanza di un anno ci ritroviamo con l'avvocato Boccia per presentarvi ufficialmente il ricco cartellone di festeggiamenti religiosi e civili in onore del nostro santo patrono. Festeggiamenti che iniziano oggi, venerdì 17. Ecco, una data che a molti fa paura, un po' scarama, iper chi è scaramantico, insomma, però noi rispettiamo la tradizione, oggi si inizia con i festeggiamenti. Casualmente è venerdì, però i festeggiamenti iniziano il 17 con la dedicazione della nostra chiesa e quindi della chiesa cattedrale. La novena inizia invece domani 18. Oggi ci sarà la intronizzazione di San Pantaleone, cioè la collocazione sul trono. Quest'anno... Un momento in cui, simbolicamente, San Pantaleone si riavvicina ai propri fedeli. Sì, ci sarà una grossa partecipazione dei fedeli. Esce dalla nicchia in cui viene custodito tutto l'anno, apriamo questa porticina, in spalla viene portato nella cattedrale perché durante l'anno sta in una cappellina dedicata all'interno della cattedrale. Quindi con questa cerimonia che è molto sentita e devo dire... Molto sentita e molto partecipata. È il momento in cui appunto San Pantaleone si riavvicina. Eccola qua, questo momento particolare. Ci sono delle donne in queste immagini che... Sono componenti del comitato feste. Del comitato festa. Un primissimo momento, ecco. Ripeto, è un momento molto molto sentito, come lo è il momento della riposizione a fine festeggiamenti. È il contatto, diciamo, San Pantaleone che scende proprio tra la gente, dove del resto sta tutto l'anno, insomma. Quindi, però c'è questo contatto proprio fisico, il bacio della statua che è un momento veramente intenso, veramente significativo. E' un momento in cui San Pantaleone lascia la nicchia, la sua cappellina. E' una seconda occasione a novembre, la terza domenica di novembre, quando si celebra la festa della traslazione del sangue, della reliquia. Tutto il programma, come ormai avviene da dieci anni, è racchiuso in questo libro, possiamo definirlo? Un giornale, ecco. In questo giornale che voi naturalmente presentate proprio qualche giorno prima dei festeggiamenti di San Pantaleone. C'è un'occasione importante, quindi questa sera appuntamento in cattedrale, a che ora? Ore 18, c'è l'intronizzazione. C'è l'intronizzazione. Si poi segue sulla messa, alle 19, la messa della dedicazione, presieduta da Sua Eccellenza il Biscoe. Poi domani c'è un altro importante momento che riguarda proprio questo giornalino, perché è la decima edizione, se non sbaglio. Sì, c'è un piccolo errore, in pratica perché sarebbe la undicesima edizione, ci fu un primo numero, un prequel, diciamo. Numero zero, come si sorrita. Sì, il numero che facemmo così, tanto quasi per scommessa, anche nel formato era completamente diverso. E poi siamo partiti con questa edizione che poi è rimasta la stessa da dieci anni a questa parte. E la Proloco Gelbison ha voluto dedicare una serata a questi dieci anni, a questo compleanno, dieci anni poi è una data che va festeggiata, con una serata particolare nel sagrato della chiesa, nella piazzetta della cattedrale. Ci sarà un po' di musica domani sera e lettura di qualche brano, qualche cosa abbastanza divertente, di tutti gli scritti che abbiamo raccolto in questi anni. Ci saranno due lettori, insomma, hanno organizzato una cosa veramente carina, quasi uno spettacolo nello spettacolo. E poi ci sarà il maestro Di Lauri, che è molto molto bravo, un cantore che si alternerà con altri amici per accantare, e a tenere un poco destra, a rallegrare un poco la serata. Ecco, oltre al programma in questo giornale troviamo tante immagini, tante foto, ma anche tanti articoli. Dopo i saluti del sindaco, del vescovo, ci sono poi... No, il vescovo non c'è. No, il vescovo non c'è. C'è il parroco, perché ovviamente è il parroco della cattedrale che deve dare il suo messaggio della festa. Quindi, oltre ai saluti appunto del sindaco e del parroco, poi ci sono le testimonianze di tantissime persone, insomma, che in qualche modo hanno un messaggio forte da dare ai fedeli del territorio, ai fedeli della diocesi. Ecco, come scegliete ogni anno le immagini, i testi con cui presentare questo giornale? Allora, i testi, per la verità, nei primi tempi avevamo più difficoltà a riempire il giornalismo, perché non era poi facile trovare delle cose interessanti attinenti alla festa, al culto, alla tradizione. Poi via via, devo dire che il giornalino ha avuto un grosso successo. Lo aspettano il 27 giugno, quando noi lo distribuiamo per la prima volta. Quindi già il 27 giugno lo distribuete. Sì, il 27 giugno è un'occasione dell'anno, insomma, per rappresentarla. Guarda, è un'iniziativa molto, molto impegnativa. Però, ripeto, ci sono delle persone che si offrono per scrivere qualche cosa. Quest'anno, per esempio, abbiamo questa nuova immagine, Luglio in Baraviso, che è una simpaticissima poesia, una lirica di Lidia Metrano. Abbiamo anche, insomma, Clelia Schiavo, Antonio Ruocco, Massimo Stifano, Pantaneo Mautone, insomma, tanti amici. Sì, sì, c'è tante, ci sono tante persone. Anche un anonimo, eh? C'è un anonimo, è che è una nonna, è voluto rimanere anonima, però leggendo forse si riesce anche a capire chi sia, però io mi astengo dal dire chi è. Basta leggerlo, basta leggerlo. Sì, ma infatti, l'uomo è carità. Quello che va poi sottolineato sicuramente è il supporto degli sponsor. Questo giornalino è importante anche per quello. È importante anche per quello, perché io non mi stancherò mai di dirlo. Senza questa iniziativa noi non potremmo avere la serata del 29 luglio, la serata di musica leggera. Quest'anno abbiamo avuto veramente una grandissima, incondizionata adesione da parte degli sponsor. Se noi in un anno ne perdiamo cinque, poi ne recuperiamo dieci. Quindi veramente dobbiamo dire grazie a tutti gli amici che aderiscono a questa nostra iniziativa, che oramai cammina da sola. Per fortuna noi appena diciamo vorremmo... Sì, 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 non c'è assolutamente problema. Ripeto, è faticosa, però poi alla fine tutto l'impegno, tutto il lavoro che c'è dietro a questa pubblicazione viene ripagato dalla disponibilità e anche dal riscontro da parte della gente, perché ci chiedono proprio ma quando esce il giornalino, che immagine mettete quest'anno sui giornalini. C'è anche la collezione, ecco, nelle famiglie ci sono i giornalini di ogni anno, c'è anche la collezione. Ci sono molte famiglie che li hanno tutti intatti, immacolati, conservati per bene, ma d'altra parte... Spogliarli poi è ripercorrere anche la storia di Vallo e del Cilento. Ci sono immagini, non lo so, fra 50 anni qualcuno vedrà queste cose, forse ce ne renderà merito. È un bel lavoro. Allora, arriviamo ora agli appuntamenti, partiamo da quelli religiosi e poi quelli civili, prima però iniziamo a dare uno sguardo anche ai giornali di oggi. Ecco qua, purtroppo parlavamo di questa tragedia accaduta ieri sulla Mingardina Camerota, scontro tra autodonna incinta, purtroppo perde il bambino. Vedremo nelle pagine interne, intanto le altre notizie in prima, gli scettici del De Luca a tutto fare, dai medici ai sindacati protesta per l'accentramento degli assessorati. L'allarme oggi caldo record, il ruggi senza aria condizionata. Poi Meluzio, sigilli e manette, l'imprenditore battipaiesa ai domiciliari, beni sequestrati. Le altre notizie, a Eboli la gita al mare finisce nel sangue, gravi quattro ragazzi, tanti incidenti stradali, purtroppo ieri sulle strade di Salerno. Ma andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine, dunque la polemica è ragione, nascono gli Enzo Scettici, guida troppi assessori, medici, associazioni professionali, sindacati ed intellettuali napoletani dubitano che possa occuparsi di sanità, trasporti, agricoltura e cultura. Poi Welfare a Napoli spunta il nome di Anna Petrone. L'ex consigliere potrebbe avere un incarico dal governatore, il sindaco Parisi, tra i consulenti del programma PSR. Acqua, atti di gara inviati a cantone, il neopresidente deve restare un bene comune, ci vuole un governo pubblico. Allora, queste le prime pagine della città, mentre arriviamo su quelle dedicate a Salerno, torniamo con l'avvocato Gerardo Boccia. Quindi oggi e domani, già due importanti appuntamenti, poi si inizia naturalmente con il programma ufficiale, con le cerimonie religiose. Il momento clou è la processione, ecco, attesissima, chi attraverserà tutte le strade cittadine di Vallo o no? Che cosa ci sono delle novità per quanto riguarda la processione quest'anno? Allora, c'è qualche novità. In questo periodo si è parlato molto del percorso della processione. Allora, io devo dire una cosa, fare una premessa. Ecco, prendendo spunto, leggo solo due parole per far capire l'importanza. Martina Piccirillo scrive proprio sul giornale, la processione è il momento più bello e sentito di un popolo che si ritrova a vivere un intenso momento di fede. Sembra quasi che le persone vivano tutte lo stesso tempo. Per me la processione assume un valore oltre che religioso, anche affettivo, perché fin da quando ero piccola, ricordo nonno vestito con il saio dell'arci confraternita di San Pantaleone. Anche oggi, nonostante abbia una certa età, nonno insieme a tutti gli altri componenti dell'arci confraternita continua a percorrere le strade del paese. Sì, questa è una giovanissima, a noi fa piacere che anche i più giovani si avvicinino con una loro testimonianza alla nostra pubblicazione. Dunque, per quanto riguarda la processione, io devo fare delle premesse. Il Comitato Festa, per quanto riguarda lo svolgimento della processione, ma non per un fatto di autolimitazione, non ha alcun potere di decidere se la processione debba attraversare via X oppure via Y. Non dipende dal Comitato, il percorso. Assolutamente, perché la competenza esclusiva in questa materia spetta esclusivamente all'autorità ecclesiastica che è rappresentata dal Vescovo. Quindi il Vescovo può decidere se modificare o meno il percorso della processione. Perfetto, esatto. Ecco, perché questa precisazione? Ci sono state delle richieste particolari? Perché questa precisazione, infatti, noi siamo andati a parlare con il Vescovo di un altro aspetto della processione. C'erano venute delle sollecitazioni di aumentare il numero delle statue che facessero da cornice. Che già sono un bel po', eh? Che sono un bel po', sono 23, ovviamente San Pantaleone 24. Qualcuno diceva, però c'è qualche santo, potrebbe partecipare, vorrebbero la gente, sai. Appena fatta questa richiesta al Vescovo, il Vescovo disse, bisogna resistere alle suggestioni della folla, alle suggestioni popolari. Noi di questo prendemmo atto, perché, ripeto, non potevamo fare diversamente. pur azzardando una piccola insistenza, però, ovviamente, sapevano che... Cioè, potete accontentare tutti e tutti come comitato. Ma, infatti, ci si cerca, quantomeno, di scontentare il meno numero possibile. Questo può essere un obiettivo. Al che il Vescovo fu irremovibile su questa cosa, dice, guarda, io non vi dico di limitare il numero, però più di questi... Non neanche aumentare. Esatto, più di questi che ci sono, non ne mettiamo. Volevo solo, però, a proposito della processione, dire che non mi pare... Io mi ero riservato già l'anno scorso di verificare se, andando per via Calcinali, poi scendendo per la Provvidenza, praticamente, ci fosse un... Che il percorso che mi è stato fatto negli ultimi anni... Che è stato fatto negli ultimi anni, ma non sempre... Quello che si passa, insomma, dietro la diocesi. Esatto, infatti. Poi si esce davanti all'ospedale. Si esce da prima del... giusto 50 metri prima dell'ospedale, infatti. Il Vescovo ci disse, io mi ero riservato di verificare questa cosa e mi sono reso conto che passare in quella zona è effettivamente inutile, c'è un po' di scollamento, la gente non ci segue. Spreggia le scorciatoie. Sì, e infatti, necessariamente, perché la gente poi non viene, non segue il corteo. Sempre con il dovuto rispetto, con il dovuto garbo, facemmo notare eccellenze. Non vorremmo però suscitare ulteriori reazioni. No, ma va bene, non facciamo via Murat e arriviamo direttamente... Cioè, dopo i giardini pubblici scendiamo per via Francesco Cammarotta, passiamo davanti alla diocesi e ritorniamo. Il percorso che si fa è il ritorno. Noi di questo dovemmo prendere atto, perché era una decisione, ripeto, dell'autorità ecclesiastica. So che anche il sindaco ha fatto un tentativo per evitare questa modifica. Anche in questa occasione il vescovo è stato irremovibile. Pare poi che successivamente ci sia stato un incontro tra una delegazione, diciamo, degli abitanti del rione Spio, che avrebbero richiesto di far passare la processione per via Calcinali e farla uscire, in pratica, ai giardini dove è la fontana, via San Ricone-San Nicola, in pratica. Cosa che noi già avevamo, per la verità, evidenziato al vescovo. Il vescovo si è riservato un momento di pensarci, poi ha sciolto la riserva dicendo va bene, possiamo fare in questo modo. Non so se la regia può proporci qualche momento della processione, giusto, per far capire, insomma, di che cosa stiamo parlando. Quindi c'è stata una piccola modifica nel percorso? Una piccola modifica. Ripeto, per come sono andate le cose, io personalmente resto leggermente perplesso, perché erano cose che noi già avevamo rappresentato. Poi le cose sono evolute diversamente, però noi, ripeto, prendiamo atto... Avresti preferito non modificare? No, assolutamente. Avremmo preferito, però, ripeto, noi dobbiamo assolutamente osservare quelle che sono le disposizioni dell'autorità ecclesiastica. Questo è stato disposto e noi a questo ci adeguiamo. È adeguata, insomma. Assolutamente, non possiamo fare diversamente. La processione già negli ultimi anni dura dalle 3 alle 4 ore, se non sbaglio. Diciamo che esce alle 7. Anche perché, insomma, i tempi sono quelli che sono, ci sono diversi momenti, quello in Piazza Vittorio Emanuele, al Rione Spio, davanti all'ospedale, davanti all'ospedale è davvero uno dei momenti più emozionanti con i malati, insomma, che hanno la possibilità di poter partecipare a questi solenni festeggiamenti. Questo per quanto riguarda la processione. Poi dicevamo, tra gli altri appuntamenti religiosi, sicuramente la messa del 27, che si terrà in cattedrale. La messa del 27, no, voglio dare però, non so se mi dai giusto un secondo. La novena quest'anno sarà animata dai frati francescani. Il tema è il volto di Dio risplende nei santi. Si alterneranno ogni due sere quattro frati francescani. E la sera del 25 luglio celebrerà la messa il nostro vescovo e poi partirà questa marcia francescana. C'è un tratto che faranno Vallo Sapri. A piedi verso Assisi. A piedi verso Assisi. Faranno ovviamente solamente un tratto. Il primo tratto che partirà il 26 mattina sarà Vallo Cuccaro. Poi faranno un ulteriore tratto fino ad arrivare a Sapri in tre, quattro tappe. Quindi questa è un'ulteriore novità inserita nel programma. Quindi ricordiamo il 25 luglio, Santa Messa, prima del vescovo miniero e poi subito dopo. Inizio della 35esima marcia francescana a piedi verso Assisi. Questa non è un'organizzazione del parrocchiale, ma ripeto, è un'organizzazione dei frati francescani che hanno voluto inserirla nel nostro programma della festa. Poi per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi, la processione è inserata, però nella mattinata ci sarà poi la solenne concelebrazione nella cattedrale di San Pantaleone alle ore 11. Questo per quanto riguarda i festeggiamenti civili. Arriviamo ai religiosi, arriviamo a quelli civili. Beh, negli ultimi anni ci avete davvero, come dire, meravigliato con le luminarie. Lo scorso anno il ponte di Brooklyn in Piazza Vittorio Emanuele. Quest'anno abbiamo anche la nuovissima piazza con i lavori di riqualificazione. Quindi un motivo in più per abbellire con delle luminarie Piazza Vittorio Emanuele. Ci saranno delle novità? Che cosa avete pensato? Novità, noi abbiamo già diffuso un manifesto in cui parlavamo di fontane e danzandi. Diciamo che la fontana sarà un poco il soggetto. Quindi non avremo più il ponte di Brooklyn che vediamo alle nostre spalle. Infatti è una struttura maestosa, avremo una struttura altrettanto importante, con al di sopra di un tetto di luci, come era quello dello scorso anno, leggermente modificato, avremo delle fontane, delle strutture che rappresenteranno delle fontane, a livello di movimento daranno l'impressione proprio di questi flussi di acqua che salgono e scendono. Quindi sarà una cosa molto... Fontane di luci. Fontane di luci, sì, danzandi. Ma la novità ancora più evidente è che quest'anno le luci saranno accese a ritmo di musica. Ci saranno dei brani musicali che, come dire, daranno ritmo a questo movimento. Ovviamente saranno solamente dei momenti iniziali dell'accensione, poi il resto saranno ovviamente sempre a movimento ma saranno fermi. non è che possiamo tenere la musica per ore accesa. Sarà uno spettacolo, uno spettacolo di una decina di minuti. Chi si arriva in piazza, sicuramente si soffermerà qualche minuto in più, giusto al tempo di aspettare. Ma ripeto, c'è un orario particolare, sono le 21.15, quando c'è proprio l'inizio dell'accensione del 26. E poi replicheremo per la stragrande maggioranza delle persone che saranno presenti per la processione. Dopo la processione, verso le 22.30, 22.40, rifaremo questa accensione con altri brani musicali. Allora, arriveremo tra poco agli altri appuntamenti civili. Intanto iniziamo a dare uno sguardo, anzi continuiamo a dare uno sguardo anche ai quotidiani di oggi. Le pagine interne della città, Salerno, parliamo di sanità, caldo e niente aria condizionata, all'ospedale Ruggi, manca nella sala d'attesa, del pronto soccorso e in alcuni reparti. Ancora feto morto, il giudice condanna l'ostetrica. Il caso si verificò nel 2008 alla Clinica del Sole. È stato invece assolto il ginecologo. Fede e tradizioni, a proposito di fede e tradizioni, annullati i festeggiamenti della fiera di Sant'Anna, il taglio del nastro era previsto per domani, l'ira degli organizzatori. L'assessore Picarone, il comune, non ha mai revocato l'autorizzazione. Si difende così il comune di Salerno. Intanto un'altra testimonianza, donna tartassata, denuncia Equitalia per estorsione. La società le aveva già pignorato un quinto dello stipendio. Ma arriviamo a quanto accaduto ieri mattina sulla Cilentana con la tragedia. La donna incinta ha perso il bambino in un incidente. Tragedia dunque sulla Mingardina, la trentenne di Sala Consilina, è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vallo, ferito anche un 65enne che vive a Lentiscosa. Ha perso il bimbo, dunque la donna di 30 anni, ora ricoverata al San Luca. Sono tragiche e devastanti le conseguenze dell'incidente che si è verificato ieri intorno alle 9. Pochi soldi per garantire la sorveglianza. La Cilentana è aperta nel weekend e verso sud. Ricordiamo già da quest'oggi, la Cilentana dovrebbe essere riaperta durante il fine settimana, almeno su una corsia. Ecco, avvocato, speriamo bene. Ecco, lo facciamo per i turisti, anche se andrebbe sottolineato che la Cilentana, insomma, è al servizio privato di chi vive. Dei residenti. Dei residenti, non solo dei turisti, però almeno ci accontentiamo di questa apertura straordinaria per un mese. A Capaccio, sicurezza e multa, il Comune attiva il suo autovelox, poi titolo omaggio ai politici, Voza cancella il privilegio. Un altro autovelox dopo le tante polemiche sollevate da quello installato dal Comune di Agropoli. Intanto, giudici di pace a Sala, gli uffici di Sapri e Polla, la proposta del procuratore Vittorio Russo all'inaugurazione della nuova sede. I magistrati ospitati nelle aule dell'ex tribunale risparmiati 40 mila euro. Lei, avvocato, è scritto all'ordine di Vallo, giusto? Di Vallo, sì. Ecco, poi via il parroco accuse al Vescovo Sala, ai fedeli di San Pietro, contro il trasferimento di Don Vincenzo a Teggiano. Accade anche questo nel Vallo di Diano. Poi a Padula, furto nell'ex polveriera, un arresto e due denunce. Oliastro Cilento, migranti, apre il centro profughi del consorzio La Rada. Lasciamo con questa notizia le pagine della città. Prima di approdare sul mattino, continuiamo con l'avvocato Boccia. Allora, per quanto riguarda i festeggiamenti civili, dopo le luminarie che cosa ci aspetta? Allora, avremo quest'anno un crescendo musicale, praticamente. Noi partiamo il 18, abbiamo detto già di questa organizzazione della Proloco, questo spettacolo musicale. Poi avremo il 26, uno spettacolo di lirica, quindi un concerto bandistico con dei cantanti. Il 27, la banda di Francavilla Fontana, che è tra le migliori in circolazione. Il 28, un grossissimo spettacolo offerto dall'Ente Provinciale per il Turismo. La big band, quelli della Galleria, sono veramente musicisti con la M maiuscola. E poi il gran finale con Irene Grandi, che è veramente una delle artiste più in voga, più acclamate del panorama musicale italiano. e questo sempre grazie agli amici. Gli sponsor, ai grandi sostenitori. Voglio anche sottolineare una cosa. Abbiamo avuto quest'anno una grossissima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale, sia a livello proprio di sostegno, di collaborazione, ma anche di sostegno da parte dell'amministrazione, da parte di interessamento di alcuni, a partire dal sindaco, dal vice sindaco, per sollecitare un poco di raccolta. Perché purtroppo... La crisi si fa sentire. La crisi si fa sentire. Però il problema, secondo me, più che di crisi è un altro. Vallo si sta, come dire, un poco... sta perdendo un poco il suo carattere di vallesità. Vallesità, infatti. Abbiamo tanta gente che non è più vallese doc. Diciamo in questi... Anche se parliamo del patrono di tutta la di oggi... Ho capito, però purtroppo i patroni poi ci sono dappertutto. E quindi ognuno dice, sì, ma la mia festa è a, non lo so, a San Biase o a Cerato, a Canalonga, insomma. Altrove, però nel frattempo si vive a Vallo. Quindi di questo noi ne risentiamo. Nel corso degli anni è chiaro che si modifica anche quello che è... Sicuramente, sicuramente c'è un... Il sentimento di affetto. Un riflesso, sì. Allora, poi, prima del concerto di Rene Grandi ci sarà anche un altro momento... Ecco, un'altra occasione mi dai per ringraziare ancora una volta la Proloco che si è messa a disposizione per riempire questo spazio. Perché avevamo notato che il 29, poi, al di fuori del concerto musicale, fino alle 10, 10 e mezzo, il paese era un poco... In attesa. In attesa, infatti. E quindi abbiamo voluto riempire questo spazio con questa iniziativa che la Proloco porta avanti in maniera stupenda da anni. E anche con difficoltà, voglio dire. Con forza e tenacia, non poche difficoltà. Infatti, infatti, le difficoltà che ci hanno rappresentato sono grandissime. Noi abbiamo colto l'occasione per riempire noi questo spazio, ma per dare loro soprattutto questa possibilità di essere visibili di fronte a un pubblico molto, molto più numeroso. e so che sta avendo un grandissimo riscontro la richiesta della Proloco per i figuranti. Partecipare per essere protagonisti. Oltre 100, ho ascoltato qualche giorno fa. Più di 100. Ieri sera erano molti di più. Ci sarà un gruppo che verrà da Noviveira, un altro gruppo addirittura da Agropoli. E queste cose qua a noi fanno veramente piacere. Allora, poi c'è una bella iniziativa sociale. Ne parliamo tra qualche stanza e intanto iniziamo a dare uno sguardo anche al mattino. Ebbene, strade killer. Il giovedì in nero, travolto mentre in bici, muore un sedicenne, quattro ragazzi gravi in Litorania. Mercato San Severino, minorenne, sale su un tetto durante una festa, precipita in prognosi riservata. Poi Severino, verdetto sulla sospensione. Oggi il Tribunale decide del merito. Ecco tutti gli scenari per De Luca. Show salernitana, primi gol di Eusepi. Arriva Russotto, fantasia per Torrente. Questo per quanto riguarda lo sport. Poi l'inchiesta. Finte società e pressa nomi. Truffa, milionari, 18 indagati. Sigilia ed 11 aziende. Meluzio Junior finisce ai domiciliari. Sequestrate barche, auto e quote. In fondo pagina, l'economia. Camera di commercio, l'ultima sfida di Arzano. L'ambiente, raccolta flop. Caos, rifiuti, soluzione in sette giorni. Ma andiamo subito sulle pagine del mattino che ci riportano i territori al sud di Salerno. Ad Ogliastro Cilento, migranti, apre il centro della discordia. L'accoglienza diventa co-housing. Il via con sei mesi di ritardo. A Sala Consilina, giudice di pace, nuovo piano, unificati con Polla e Sapri. Questa dunque è la proposta del procuratore russo di ieri mattina. Allora, parleremo di un'iniziativa sociale inserita anche nel libro. Eccolo qua, in questa foto, un po' è rappresentato. Sarà contento anche il nostro collaboratore Marco Maiese. In questa foto troviamo lo zio che da molti anni, anche per lavoro, è impegnato nel Madagascar. Come la diocesi di Vallo, come il comitato festeggiamenti San Pantaleone, ecco, è collegato a questa iniziativa. Allora, io parlo per quanto riguarda il comitato. Noi nel nostro statuto abbiamo una norma che ci obbliga a mettere da parte ogni anno una quota degli incassi per far fronte a delle opere di carità, per sopperire i bisogni di tanta gente che ogni giorno il nostro parroco ci dice che va a bussare alla porta per ogni necessità. Purtroppo la situazione è quella che è e quindi si cerca di fare qualcosa un poco per tutti. Noi già da qualche anno, dicevo, avevamo deciso di collaborare, di sostenere quest'opera delle suore di Santa Teresa, delle ancelle di Santa Teresa che hanno la loro casa madre qui a Vallo della Lucania che da anni operano in Madagascar. Franco Guzzo, che vediamo in questa foto, io leggo, vive almeno otto mesi all'anno in Madagascar. Overe sovraintente alla realizzazione delle tante opere delle ancelle appunto di Santa Teresa. Sì, noi abbiamo voluto mettere qui una foto proprio che ci ha dato Franco Guzzo di una di quelle che sono le opere, i lavori infatti che le suore hanno realizzato. Questo è solamente un emblema ma per un'opera del genere ce ne sono tante piccole altre che servono da supporto, anche portare l'acqua, l'energia elettrica, questa struttura ha un costo che in Madagascar ovviamente è molto più elevato, non c'è la possibilità di arrivare con mezzi, con autoreicoli. Insomma anche un piccolo intervento richiede un lavoro non indifferente. Infatti richiede, oltre poi a sostenere, oltre il 100 bambini, immagino che siano molti di più che frequentano le scuole create dalle suore di Santa Teresa. Noi ogni anno inseriamo il Liban dell'Istituto per chi volesse dare un contributo, volesse fare un'offerta per queste opere che sono sicuramente meritorie. Io faccio l'invito in pratica a tutti i comitati festa a mettere da parte ma giusto qualche cosina per sostenere queste opere. Pensare sia ai festeggiamenti però è chiaro che bisogna... che ha le sue difficoltà, che ha tanti problemi e che sarebbe opportuno aiutare. Allora diamo uno sguardo anche alle pagine sportive della città, poi ci avviamo a chiusura. Dunque sparring partner, Eusepi primi gol Granata, Calilio risponde con il poker, poi Lega Pro Paganese il giorno della verità a Roma, il match decisivo. Per quanto riguarda Russotto firma e va in ritiro e ora Fabiani vuole Iemmello. Questo per quanto riguarda la Salernitana però c'è la storia, l'epopea del Valdiano nel calcio che conta l'articolo di Gerardo Lobosco. Di calcio dovremo parlare anche nel corso del nostro telegiornale, dovremo avere il nostro ospite, il direttore generale Agostino Di Spirito. parleremo naturalmente di Gelbison. Allora, avvocato, in chiusura di questo nostro appuntamento, come vivere i solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone? Dal cuore, insomma dal comitato festeggiamenti, qual è il vostro messaggio? Perché lei rappresenta quante persone? Il comitato è composto e presieduto da Don Aniello, parroco della cattedrale. Presidente del professore Sanzone, al quale io pubblicamente faccio i miei auguri. Ecco qua, qua c'è la foto, se la possiamo inquadrare, di tutto il comitato. Ecco, non li nominiamo tutti, potremmo dimenticarne qualcuno. Sì, è il comitato dell'anno scorso, dello scorso anno, sì. Leggermente rinnovato. Quest'anno c'è sempre qualcuno che entra, qualcuno che esce, insomma, ma d'altra parte. Il principio della porta aperta ci caratterizza, ci ha sempre caratterizzato. Quindi, come vivere questa festa? Viverla con Letizia, ovviamente frequentando, partecipando alla processione, alle messe, alla novena. Alla novena, che inizia domani, ha detto. Inizia domani, ma mi pare inutile, perché i vallesi poi sono soliti onorare il loro patrono. Quindi, veramente non c'è nulla da dire a questo altro posto. A ballo può accadere di tutto, però, davanti ai festeggiamenti di San Pantaleone, ci si ferma. Il problema potrebbe essere durante il resto dell'anno, in cui c'è meno partecipazione, però in occasione della festa. Veramente è inutile la partecipazione. È vero, è vero. C'è qualcosa di magico, accade in quei giorni. Si ferma tutto, insomma, tutti gli attriti vengono meno davanti ai festeggiamenti di San Pantaleone. Questo è vero. Siamo tutti più buoni, tutti felici e tutti contenti. Almeno per qualche giorno. Sicuramente. Questo ci è consentito. Allora, grazie, grazie Avvocato. Buon lavoro, so che per lei e per il Comitato continueranno ad essere giorni di intenso lavoro. Lavorerete per noi e per i tantissimi fedeli. E' un piacere. Che arriveranno. Noi continueremo a seguirmi, naturalmente, come televisione. Certo, grazie. Ringrazio te, ringrazio l'editore. Giorgio Scelsa. Sì, per la disponibilità che ci avete dato, per gli spazi che ci dedicate. Grazie di cuore. È un piacere, è un piacere, è un piacere. Allora, ringraziamo allora l'Avvocato Gerardo Boccia. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Restate con noi tra qualche istante nuova edizione del TG7. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Via Pio 1070 Infante Calzature Grazie a tutti.